bene carissimi amici un bel ritrovati a tutti voi sul mio canale youtube ringrazio tutti voi per l'apprezzamento che dimostrate per quanto riguarda i contenuti portati sul mio canale per quanto riguarda l'analisi estrazione per quanto riguarda metodi e consigli di gioco io come sapete faccio sempre del mio meglio per portarvi dei contenuti validi e chiaramente metodi e previsioni vincenti e questo oggi parliamo di software quindi di prodotti importanti per vincere al gioco dell'otto sono dei prodotti assolutamente da avere perché i miei software sapete benissimo che sono anni che continuano a pagare vincite su vincite ovviamente ci sono dei software che hanno avuto più costanza vincente di altri e uno di questi è proprio il software 3 un software che vi consiglio caldamente perché un programma che gioca soltanto in tre colpi di gioco quindi elabora una previsione ad ogni estrazione che voi potete giocare per soli tre colpi e abbiamo due ruote un'ambata 4 abbinamenti e due per terno per tentare i terni secchi sono arrivati anche i terni secchi nel tempo nei tre colpi quindi risultati di assoluto valore un software che dovete avere assolutamente un software che negli anni ha fatto storia perché negli anni ha fatto stravincere vincite su vincite di ambi secchi nei tre colpi e ci sono i video sul mio canale chi ha il software lo può testimoniare ed è un programma che continua a vincere dopo anni dalla sua presentazione cosa è successo in due estrazioni consecutive parliamo dell'estrazione precisamente del 10 marzo del 12 marzo l'estrazione del 12 marzo vede sulla ruota di genova al primo colpo quindi a colpo secco lambo secco 85 17 previsione elaborata il 10 marzo vinta al primo colpo quindi tutto reale tutto documentato 85 17 genova a colpo poi cos'è successo l'estrazione precedente quella del 10 ruota di bari avevamo bari palermo tre colpi di gioco previsione elaborata il 3 marzo ambo secco 73 53 col capogioco 73 al terzo colpo di gioco chiaramente si sono diventi anche gli ambi in terzina perché giocando le terzine ci portiamo a casa anche l'ambo in terzina tutto questo in tre colpi di gioco quindi abbiamo vinto con il software 3 in due estrazioni consecutive due ambi due ambi in due estrazioni consecutive quindi 73 53 vari 10 marzo quindi terzo colpo e poi abbiamo vinto sulla ruota di genova questa qui è la era la previsione 85 17 al primo colpo estrazione del 12 marzo previsione elaborata il 10 marzo un programma che è molto valido che vi consiglio caldamente di prendere il software rimane sempre vostro necessiterà di una chiave di attivazione per essere attivato poi la copia rimane sempre vostra ed è valido per sempre non è uno di quei programmi che voi ogni anno dovete pagare per aggiornare quindi algoritmo 2021 2022 2023 quelli non sono programmi affidabili questi qui i miei software nascono così e muoiono così perché alla base c'è una mia ricerca personale mirata a farli durare nel tempo programmi che dopo anni 3 4 5 6 10 20 continuano a farlo a dare le vincite queste vincite continuano a dare ambi secchi a ruota secca software che continuano a dare i termi e ve li ho fatti vedere come ho fatto vedere il termo secco software da 1500 che ha diversi anni alle spalle quindi voi prendete un prodotto che vi vale per sempre e rimane sempre vostro e ottenete questi risultati software 3 è un software di grande investimento per vincere nei tre conti di gioco quindi due ambi secchi reali e documentati in due estrazioni consecutive chi fosse interessato al programma mi contatti o via mail o via whatsapp numero 348 75 47 715 riferimenti in descrizione per avere la vostra copia di questo favoloso programma che vi consentirà anche per esempio per il solo gioco di ambata nei tre colpi su due ruote diventa molto interessante diventa molto interessante e molto potente e molto potente quindi attenzione assoluta a questo software vi ho voluto portare questa ulteriore testimonianza di questi due ambi vinti in due estrazioni consecutive veramente un altro grande colpo dal software 3 che ha fatto stravincere tantissimi di voi negli anni quindi prendete questo programma perché ne vale davvero la pena per adesso un saluto a tutti quindi vi stessi valdolto